Sessore Scianaro, vice sindaco del comune di Fasano, c'è questo Sud Estival per la comunità fasanese, per il territorio, per lei che cos'è? È una bella iniziativa perché già abbiamo intrapresso un lavoro sinergico con questi comuni, con Monopoli, Locorotondo, per quanto riguarda altre iniziative, vedi l'ecomuseo. E quindi è una cosa molto importante e abbiamo ritenuto di sposarla anche perché insieme stiamo facendo squadra e stiamo facendo sistema per far conoscere quelle che sono le nostre realtà, i nostri tesori e quindi anche per rilanciare la cultura e il cinema è sicuramente una bella iniziativa, un'occasione.